L'ISIL rivendica l'attacco contro la moschea sciite di Al-Qudahi in Arabia Saudita. Il kamikaze che ha azionato la cintura esplosiva si chiama Abu Umar al-Najdi, ha affermato il gruppo jihadista con un comunicato pubblicato su internet. L'attentato ha fatto oltre 20 morti e più di 90 feriti al momento della preghiera del venerdì nel villaggio che si trova nella provincia orientale, una zona importante per le sue riserve di petrolio e a maggioranza sciita. La comunità ha denunciato la mancanza di protezione dei propri luoghi di culto e numerosi abitanti temono il ripetersi di atti del genere se non si ferma la propaganda dell'odio sui social media. A novembre un gruppo di uomini armati aveva ucciso sette persone nel villaggio orientale di Al-Dalwa durante la ricorrenza sciita dell'Ashura. Lo stesso mese una registrazione attribuita al capo dell'ISIL al-Baghdadi esortava la jihad contro l'Arabia Saudita, alleata degli Stati Uniti nella coalizione internazionale in Siria e in Iraq.